Facciamo il punto sui bisogni socio assistenziali e sanitari così come emergono dal nuovissimo rapporto Crea Sanità che è appena stato presentato oggi qui a Roma all'interno della Fondazione Don Sturzo. Ne abbiamo parlato con Joseph Polimeni per capire il punto di vista del management aziendale. Dottor Polimeni il rapporto Crea Sanità ci è appena stato presentato un commento a caldo di chi deve gestire le risorse di un'intera regione in questo caso che il Friuli Venezia Giulia. Cos'è che l'ha colpita di più? Devo dire che è un sistema ormai sperimentato che storicamente è consolidato e quest'anno ha introdotto degli elementi di valutazione aggiuntivi che hanno riguardato anche la componente non solo sociale, l'integrazione socio sanitaria e anche il tentativo di proiettare per il futuro anche aspetti legati potenzialmente all'implementazione dell'autonomia differenziata. Quindi diciamo quest'anno il sistema del Crea Sanità si riconferma come sistema centrale e come osservatorio importante a livello nazionale ma ecco l'elemento secondo me strategico è la sua flessibilità, la sua dinamicità che è capace anche di cogliere elementi innovativi che chiaramente l'attualità ci fornisce. La sua regione è in verde, della serie va tutto bene, non c'è niente da migliorare oppure ci sono degli stimoli anche per voi? Assolutamente sì, non si smette mai di migliorare, la regione Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale quindi ha elementi diciamo rispetto alle regioni a statuto ordinario a margini di autonomia maggiori però ecco devo dire che ci sono stati anche per la regione Friuli Venezia Giulia anche degli spunti importanti e delle aree di miglioramento su cui dobbiamo porre l'attenzione quindi non è tutt'oro quel che luccica. Ad esempio? Beh sicuramente la parte della residenzialità, la parte del territorio, è una regione che ancora devo dire ha una visione forse troppo ospedalocentrica quindi sicuramente si possono migliorare alcuni aspetti relativi alla parte territoriale. E dottor Polimene si è parlato molto qui anche del rapporto tra sostenibilità economica e esiti appunto degli interventi. Un commento su questi temi? Beh il commento che faccio brevemente è quello che sono tematiche ancora più attuali e prospetticamente ancora rilevanti su cui dobbiamo porre la nostra attenzione perché come stamattina è emerso sono elementi che coagulano e che collegano diversi indicatori, quelli della sostenibilità, quelli della proprietezza, quelli dell'accessibilità, dell'equità e quindi noi manageri della sanità dobbiamo cercare evidentemente di coniugare aspetti di centralizzazione con aspetti legati anche alla prossimità delle cure e sono due aspetti che evidentemente vanno di pari passo e che possono mettere assieme diverse stanze. Quindi da una parte ci sono le economie di scala, l'efficienza operativa ma dall'altra c'è anche l'economia di scopo cioè dobbiamo anche stare attenti alle qualità che forniamo ai nostri pazienti e anche agli esiti che poi vengono forniti alla nostra cittadinanza.